Sarà una partita di avanti, una bella battaglia e sarà dura. Dobbiamo andare noi con questo cattiveria e cominciare noi la partita. Non possiamo aspettare Sudafrica, dobbiamo far vedere quello che abbiamo fatto sui ultimi quattro anni, soprattutto l'ultimo cinque mesi di lavoro in preparazione premondiale e poi alla fine guardiamo cosa succederà. Per noi è il finale, questa è la partita decisivamente diciamo, dove o andiamo avanti o finisce il nostro mondiale dopo All Blacks. Niente, l'impressione comunque non è su di noi, l'impressione è su di loro, loro hanno qualcosa da perdere, noi non abbiamo niente, quindi è importante che noi andiamo con la testa giusta e focalizzata su quello che dobbiamo fare, però è più importante divertirci e di giocare come un gruppo, come una squadra, come una squadra, non individue. Sì, come dicevo anche prima, per me è una motivazione in più, anche se è un mondiale, non serve motivazione perché già essere qui, già giocare qui è una grande cosa, è una grande opportunità e chi entra in campo è fortunato di andare a affrontare questa squadra e provare a creare la storia. Sì, tre anni fa ero titolare, ma poi dopo Tommy al sessantesimo è entrato in campo e ha fatto molto bene anche lui e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Oggi siamo a parti invertite, ma credo che sia lo stesso, si vince e si perde in 23, quindi noi dalla panchina dobbiamo essere pronti che in qualsiasi momento possiamo entrare e affrontare questa partita che sarà una partita molto fisica, lo sappiamo, l'abbiamo preparata bene e ora tocca solo scendere in campo domani pomeriggio. Noi stiamo vivendo sapendo che comunque c'è consapevolezza nel fatto che può essere una partita che può scrivere un gran pezzo di storia della nostra squadra. Molti di noi siamo giovani, non abbiamo giocato partite così importanti, quindi ascoltiamo anche qualche consiglio dei più vecchi e cerchiamo di farne tesoro, quindi speriamo bene per domani. Ovviamente sarà una partita duro, penso abbiamo lavorato quattro anni con tutto questo ciclo per arrivare per una partita in genere, è una partita immaginante per tutti, penso una partita della vita per tutti noi, ma anche per Sudafrica perché loro sanno se perdono domani sono fuori al Coppromondo e per noi tu trovi una partita in genere forse una volta in tua vita, io credo che i ragazzi sono pronti per domani perché se tu non sei pronti per questo tipo di domani.